Amici di Milan.soccer, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento a Terrazza Milan, l'appuntamento quotidiano con i rossoneri. Oggi è la vigilia di Natale, quindi auguri di buona vigilia, domani saremo comunque assieme perché Milan.soccer non si ferma. Milan.soccer è il Milan in tasca, Milan.soccer ti presenta il libro Ma tu ami più me o il Milan. Un libro gioco, un book game, informazioni, leggende, curiosità, tutto inerente al mondo rosso-nero. E poi si gioca 50 domande dedicate al Milan e 50 dedicate alla coppia. Risponderete a più domande sul Milan o a più domande sulla coppia? Così potete rispondere alla famosa domanda Ma tu ami più me o il Milan? Dunque stamattina abbiamo voluto intitolare questa puntata appunto come leggete sulla nostra copertina. Torna un uomo di Berlusconi. Facciamo una premessa però prima di spiegare e di andare nella notizia. È troppo tempo, davvero troppo tempo, che il Milan, immeritatamente, subisce, come posso dire, eccessive umiliazioni. Ecco, diciamo così, in fondo il nostro paese è famoso per questo. Quando qualcuno è vincitore si sale sul carro, ma poi subisce colui che sale sul carro una sorta di frustrazione interna, per cui alla prima difficoltà del vincitore è, lo stesso che è salito sul carro, il primo carnefice. È come se avesse metabolizzato, maturato, quell'invidia di dover essere solamente gregario e non protagonista della vittoria. Questo capita sempre, capita a chiunque abbia avuto successo, abbia avuto un, posso dire, un eccessivo? No, direi non eccessivo, comunque un punto che porta alla vetta. È capitato anche a Milan. Il Milan per 30 anni ha vinto ovunque, ha stravinto, ed era osannato. C'erano milanisti ovunque, a un certo punto sono scomparsi. I milanisti veri sono questi qui, io mi vanto di essere un milanista vero, senza interessi, ogni mattina, ogni notte, ogni sera, ogni pomeriggio, è una malattia che non va più via. Però, in particolare, mi rivolgo agli organi di stampa. Uno, Mediaset. È come se volesse Mediaset far esaltare, risaltare ancora di più che l'assenza del suo proprietario. Il Milan è Berlusconi dipendente, cioè senza Berlusconi non ce la fa vincere. E quindi esalta tutti gli elementi negativi. I giornali. Ragazzi, i giornali sono imbarazzanti. Abbiamo messo in copertina la Gazzetta dello Sport, che mai è diventata a tutti gli effetti un giornale di propaganda della seconda squadra di Milano. Solo ieri, per curiosità, sul giornale online della Gazzetta, interperfetta, interperfetta. Cosa vede Inzaghi? Cosa sa Inzaghi? Questo firma è fatta, ha rinnovato. E poi scorri, scorri, e scorri tanto. E trovi che Florenzi è rinato. Allora, a parte il fatto che Florenzi non è rinato affatto, quindi voi di calcio non capita niente. Florenzi ha fatto una partita terrificante. Poi l'ha messa lì e quindi, come dire, il gol rappresenta la panacea a tutti i mali. Florenzi non è in grado di fare il terzino destro, Calabria torna subito, ma non parliamo di calcio, parliamo di comunicazione stamattina. Cos'è che ci insegnano la scuola di giornalismo? Le 4S, per me 5, e quindi sesso, sport, sangue. Questi sono gli elementi. E poi c'è la stessa delle stronzate. Ora, il Milan, io da tempo lo dico su questo canale, non solo su questo canale, ha un ufficio stampa che purtroppo non è preso in considerazione dagli organi di stampa. Per cui la Gazzetta ormai, con tutto il rispetto per noi milanisti, è diventata illegibile. Gli altri nemmeno li consideriamo. Una è il giornale di propaganda della Juve, la Gazzetta è il giornale di propaganda dell'Inter, il Corriere dello Sport è il giornale di propaganda delle Vags. E quindi Mediaset, l'abbiamo detto, la 7 di Cairo, così come l'altra sera ho letto sulla Gazzetta dello Sport, un buon Torino cade a San Si, un buon Torino, questo Inter Torino, il Torino non ha mai tirato in porta. Quindi rispondiamo agli ordini della proprietà, agli ordini degli editori. Quindi la libertà di stampa, oltretutto, si è andata verso un'altra direzione. Quindi abbiamo un problema. Noi del Milan abbiamo un problema, a parte gli infortunati, abbiamo un problema della comunicazione. Cioè l'ufficio stampa, oggettivamente, al mio modo di vedere, non funziona. Punto. È inutile che guardiamo i blog sul Milan, TV Milan. Cioè noi dobbiamo incidere. Sì, servono i risultati, però insomma, a questi livelli proprio no. Non parliamo di Sky e Dazon perché le telecronache sono oltremodo imbarazzanti. Per cui il Milan è corso ai ripari. Torna, e questa è la notizia, un ex uomo di Silvio Berlusconi si chiama Andrea McLeod. Andrea McLeod, il 3 gennaio prossimo, 2022, tornerà ad occuparsi della comunicazione che non è l'ufficio stampa. Però oggi l'ufficio stampa non è l'unico che fa comunicazione. Oggi l'ufficio stampa ha tesse rapporti con gli organi di stampa, ma poi la comunicazione è ben altro. Ora il Milan è sbarcato su social asiatici nuovissimi. Si occuperà di celebrity talent influencer relation. Ed è questo che voglio arrivare a dire. Oggi i giornali non li legge più nessuno. Vedete i dati della Gazzetta, del Corriere, sono totalmente crollati. Oggi contano più gli influencer. Quindi gli organi di stampa rimangono, come se fossero titoli di coda a sfumare, contano più questi rapporti con gli influencer. Quindi cerchiamo di essere tanti. Più ne siamo più contiamolo, diciamo sempre. Quindi da un canale piccolo come il nostro a quei canali molto più grandi di noi. Comunque l'obiettivo è arrivare da quelle parti. Quindi tutti insieme formiamo la nuova voce del Milan con un nuovo management. Quest'oggi abbiamo voluto parlare di un dettaglio che non è un dettaglio, perché vogliamo bene il Milan. E veramente ci fa male la testa vedere ogni volta questi quattro editori che detengono una sorta di oligopolio dell'informazione. Per fortuna che ci siamo, che ci sono i social, che ci sono gli strumenti come YouTube e che ci siamo anche noi, nel piccolo o nel grande. Buona Vigilia di Natale! Mangiate tanto! Ciao!